E di sei arresti, quattro palermitani e due riberesi, il bilancio di un'operazione anticrimine denominata Ulisse, condotta nelle scorse ore dai carabinieri del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Sciacca, agli ordini del capitano Salvatore Marchese, congiuntamente coi colleghi della tenenza di Ribera. Nel mirino degli investigatori sono finiti i presunti autori di due rapine in banca, una messa a segno il 18 dicembre del 2015 alla popolare Sant'Angelo di Ribera, che fruttò ai malviventi un bottino di 20.000 euro, l'altra il 15 di gennaio di quest'anno alla bancasella di Licata. In questo caso fu di 5.000 euro l'ammontare del denaro contante arraffato. In manette sono finiti i palermitani Giuseppe Cusimano, di 43 anni, Salvatore Bruno, di 27 anni, Mariano Ficarra, di 25, Vincenzo Adelfio, anche lui 25enne, ma anche i riberesi Giuseppe Triassi, di 24 anni, e Daniele Centurione, di 28. Questi ultimi sono accusati di aver svolto il compito di basisti. Sono tutti accusati di rapina aggravata. Le indagini coordinate dai sostituti procuratori della Repubblica di Sciacca, Alessandro Moffa e Cristian del Turco, sono iniziate dopo la prima delle due rapine, quella alla popolare Sant'Angelo di Ribera. I riberesi sono accusati in particolare di avere curato l'aspetto logistico, pianificando i percorsi di arrivo e di fuga, così da consentire ai rapinatori provenienti da Palermo, i quali, precisano i carabinieri, operavano in trasferta per rendere più complesse le investigazioni nei loro confronti, di mettere a segno il colpo in sicurezza. Lo stratagemma usato dei malviventi per introdursi in forza all'interno degli istituti di credito viene definito degli inquirenti ingegnoso ed efficace al tempo stesso. Il 25enne Mariano Ficarra, unico incensurato e quindi non ancora noto alle forze dell'ordine, entrava all'interno dell'istituto bancario del rapinare, anche rendendo possibile la videoripresa del suo volto e l'acquisizione di eventuali impronte digitali. Poco dopo, però, con la scusa di dover prestare immediate ed urgenti cure mediche ad un parente in difficoltà appena fuori dall'istituto, si metteva ad urlare chiedendo ed ottenendo l'apertura della bussola d'ingresso alla banca. Cosa questa che permetteva a coloro che sono accusati di essere gli altri tre componenti della banda, tutti a volto coperto e con guanti da lavoro per non lasciare tracce, di poter entrare ed effettuare la rapina, ottenendo la consegna del denaro, esercitando violenze e minacce nei confronti dei dipendenti e dei clienti già presenti all'interno dell'agenzia. Nel frattempo i basisti, dopo aver garantito un contributo informativo e logistico, sono accusati anche di aver partecipato attivamente alla fase finale della rapina in banca a Ribera, cooperando con i malviventi palermitani con la mansione di Pali, posti all'esterno dell'istituto di credito. Durante le indagini rese complesse dal camuffamento operato dai rapinatori, gli investigatori si sono avvalsi di avanzate tecniche investigative, soprattutto intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati, telefonici e filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma anche attraverso l'acquisizione di testimonianze, osservazioni e pidinamento, svolti soprattutto a Palermo. I palermitani Giuseppe Cusimano, Salvatore Bruno, Mariano Ficarra e Vincenzo Adelfio si trovano adesso all'interno della casa circondariale Pagliarelli di Palermo. Il riberese Giuseppe Triassere, inchiuso in una cella del carcere di Favignana a Daniele Centurione, sono stati concessi invece gli arresti domiciliari. I provvedimenti restrittivi richiesti dalla procura sono stati firmati dal GIP del Tribunale di Sciacca, Roberta Nodari. Adesso si attende all'interrogatorio di garanzia.